presentiamo oggi il programma della terza edizione estate 2018 delle domeniche di san domenico come negli anni passati nel periodo estivo a incominciare dal 20 di maggio fino al 23 di settembre noi organizziamo dei concerti vocali e strumentali in questa chiesa di san domenico e da quest'anno anche al cortile del nespolo delle scuole di musica che la fondazione casse di risparmio di fano sostiene annualmente con un contributo economico queste scuole 15 sono le scuole di musica del nostro territorio organizzano quindi dei concerti vocali e strumentali nel periodo estivo per la cittadinanza e per gli ospiti e turisti che sono presenti nel nostro territorio si tratta di 15 scuole di musica di tutto il nostro territorio alcune sono bande alcune sono istituti di musica altri sono cori che aglieteranno con brani di musica scelta veramente interessanti interesseranno tutte le domeniche a partire ripeto dal 20 di maggio e 23 di settembre si incomincia domenica 20 maggio con l'esibizione dell'istituto diocesano di musica sacra poi si prosegue in tutte le altre domeniche secondo un programma ben definito invito quindi tutte le persone l'ingresso è libero invito tutte le persone interessate a questa cosa a intervenire perché saranno sicuramente esibizioni importanti e belle in un ambiente poi che da un punto di vista artistico e architettonico e storico è davvero fra i più interessanti della città grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti